Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Oltre 200 atleti hanno già annunciato la loro presenza alla podistica Baronissi Cava, secondo trofeo Real San Francesco. La grande corsa, che si svolgerà domenica mattina con inizio alle ore 9.30, si inserisce nel calendario dei festeggiamenti per San Francesco d'Assisi. Si partirà dallo spiazzo antistante il comune di Baronissi, poi i corridori attraverseranno Pellezzano e giungeranno dinanzi al sagrato del santuario di San Francesco e Sant'Antonio di Cava dei Tirreni, con i primi arrivi intorno alle 10.15. Su un percorso di poco meno di 16 chilometri, reso impegnativo e selettivo dai saliscendi che lo disegnano, si cimenteranno gli atleti provenienti da ogni angolo della Campania e dalle regioni limitrofe. La gara punta, già al suo secondo anno di vita, al salto di qualità e l'organizzazione avanza la sua candidatura quale campionato nazionale Libertas di podismo su strada. L'evento è stato presentato ufficialmente presso il Chiostro di San Francesco lunedì dal padre guardiano Fra Pietro Isacco e dal dirigente nazionale della Libertas Carmine Adinolfi. Collaborano all'iniziativa anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Cava, la Protezione Civile di Baronissi e Pellezzano, l'Associazione Europea Operatori Polizia di Cava. Ma ascoltiamo le parole di Carmine Adinolfi, intervistato dalla nostra emittente. È una manifestazione arrivata alla seconda edizione che abbraccia tre comuni per una distanza di 16 chilometri, quindi una gara abbastanza impegnativa per atleti che hanno una certa preparazione atleta perché avremo un percorso che è molto difficile, molto montuoso, con una discesa a picco che tra Bellezzano ci porta attraverso Croce fino a San Pietro e quindi con delle pericolosità eccessive, però ben organizzata, che al momento ha già 200 iscritti che dovrebbero ancora aumentare, iscritti che provengono da tutta la regione ma anche dalla Puglia e dalla Calabria, quindi c'è una manifestazione a livello interregionale. Ci candidiamo se le cose vanno come noi ci auguriamo, con la volontà anche della comunità francescana affinché questo evento, l'anno prossimo, diventi un campionato nazionale di ipodismo su strada, sulla distanza di 16 chilometri. Per realizzare questo c'è alle spalle una grossa collaborazione e il supporto delle amministrazioni comunali, che qui va in nostro applauso e ringraziamento, varrà a dire dal comune di Cava di Reni, quindi grazie al sindaco, all'assessorato proposto, al comando dei vigili urbani, grazie al comune di Baronissi e al comune di Bellezzana, ma anche grazie anche a coloro i quali garantiscono l'assistenza sanitaria come la Croce Rossa e l'associazione del volontariato che comunque faranno da supporto. Noi vi aspettiamo numerosi per far sentire il vostro applauso e la vostra accoglienza a coloro i quali, attraverso la passione della corsa, si faranno una gara da di loro in uno spettacolo in mezzo al verde, ma con tanti sacrifici e con tanta forza. Quindi appuntamento a domenica e grazie anche a voi per averci dato la possibilità di estendere il nostro messaggio alla collettività.